Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a Nizza Come vedete sono già un po' rosso perché stamattina siamo stati al mare ci siamo rilassati perché ieri il viaggio doveva essere di circa 6 ore e invece ce ne abbiamo messe 10 per colpa del traffico e di un incidente quindi stamattina ci siamo rilassati abbiamo mangiato fronte spiaggia ma adesso facciamo un bel allenamento perché questo non è uno sport è uno stile di vita allenamento fatto se volete datemi del fissato però per me non c'è niente che mi fa stare così bene come l'allenamento quindi anche in vacanza quell'oretta la trovo sempre e soprattutto già mi inizio a guadagnare le calorie che mangerò stasera Adesso una bella passeggiata per Nizza e poi andiamo a cena fuori Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti